L'alimento Vetria di Orvieto parla della lettera di Bruxelles. La Commissione europea spiega non contesta ma chiede chiarimenti sulla riduzione del debito che noi facciamo come giusto che sia attraverso un percorso più morbido che deve essere sostenibile sul piano economico. Quanto alla manovra che conferma in arrivo al Parlamento la prossima settimana, dice Ormai siamo davvero ai dettagli, quindi il decreto fiscale è praticamente pronto e sulla legge di bilancio siamo nella fase di redazione avendo ormai definito un quadro.